ciao a tutti ragazzi questo video lo faccio per tutti e due canali youtube quello dei noi con voi con te ovvero io e i miei fratelli ecco il mio canale e il mio canale e il mio canale youtube personale ci come il diablo praticamente vi volevo ringraziare per gli iscritti perché siamo arrivati nel trio di youtube dei noi con voi con te con i miei fratelli siamo arrivati a 570 iscritti c'è proprio siamo aumentati tantissimo siamo arrivati a 500 iscritti non abbiamo fatto in tempo fa lo speciale però va boh non fa niente il prossimo speciale lo faremo tipo verso i mille perché mo non ci viene in mente niente e quindi non fa niente poi un'altra cosa vi volevo ringraziare perché nel mio canale siamo aumentati i tanti iscritti lo speciale lo farò verso i 100 però non so cosa se non so è buono lo so vabbò comunque questo qua è un video ringraziamento per tutti gli iscritti c'è anche per i fino ai 600 fino adesso 97 pure per il mio canale youtube sì perché siamo aumentati tantissimo io vi voglio ringraziare tutti spero che il video c'è comunque scrivetevi a tutti e due i canali youtube quello del trio di youtube in noi con voi con te quello più famoso di tutto l'abruzzo ovvero io jonathan ismaele e joele ovvero isma gtv trattivo basso 18 e joele sicco anche loro hanno canali youtube gli altri social non lo non lo dico adesso perché c'è da tanto che vabbò in tutti i social se volete cercarci in tutti i social vabbò poi c'è anche paolo pazzu rog su youtube ah poi pazzu shorts poi il secondo canale youtube di ismaele il maestro le am si poi su instagram scusate per il rumore però ma proprio ma proprio ma dovevano fare i lavori che sto facendo il video devono pulire la strada magari ok su instagram ismaele vannicola e jonathan punto vannicola poi su tiktok jonathan vannicola 3.0 poi tre canali di isma edit punto calcio trattino basso 18 juventus punto edit trattino basso 18 edit paolo di bala trattino basso 18 con tipo delle decorazioni oppure paolo sta su tiktok pazzu rog e facebook jonathan vannicola e basta ho finito tutto ok spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 Grazie.